ciao a tutti allora sta accadendo sedetevi rilassatevi perché state per vedere una collezione meravigliosa io lo so che ogni volta che vi devo presentare una nuova collezione mondial inizio con no vabbè vi assicuro che questa collezione autunno inverno 2019 sono certa che vi piacerà tantissimo naturalmente questa è un'anteprima quindi vedrete il campionario vi parlerò un pochino della dei filati che andate a vedere ma ovviamente seguirà un video recensione che approfondito con i comitoli veri e propri eccetera eccetera però non ho resistito la montia mi ha concesso di farvi quest'anteprima perché è meravigliosa soprattutto i colori di quest'autunno sono meravigliosi e non so come faremo a scegliere tutti ma va bene quindi vi lascio alle immagini fatemi sapere però nei commenti se c'è già qualche filato che vi intriga che vi piace che vi ha incuriosito grazie ciao allora partiamo subito con super kid merino un bellissimo filato che abbina la lana vergine merino alleggerissimo super kid mohair i gomitoli saranno da 50 grammi per 130 metri da lavorare con nel 4 e 5 ovviamente è molto morbido e assolutamente super lavabile questo invece è sublime chi mi segue da tempo sa che io lo adoro è uno di quei filati soffiati quindi con l'uncinetto fantastico e nasce quest'anno le fantasie effetto tweed guardate che meraviglia adesso vi zoom per darvi ancora più dettaglio è sempre composto da cotone gitto ma co e lana vergine merino quindi è un filato meraviglioso ovviamente molto versatile e ovviamente è super morbido io è un filato veramente che adoro tantissimo così come adoro tantissimo e vi è piaciuto tantissimo anche a voi in fiera il soave lux adesso vi faccio vedere anche qui i colori meravigliosi qua abbiamo lana vergine merino baby alpaca microfibra e abbiamo questi inserti meravigliosi lame ore argento e anche questo ovviamente è super morbido morbidissimo anche soave senza lame naturalmente questi sono i colori sempre parliamo di lana vergine merino e baby alpaca e microfibra facilissimo da lavorare leggerissimo come resa e questi sono i colori degradé che avete appena visto e anche i colori melange che sono veramente meravigliosi e questo appunto è una un piccolo sviluppo di come insomma verrà questo filato veramente bellissimo questo invece è setoso setoso anche questo è una vecchia conoscenza quest'anno hanno fatto appunto i colori melange anche di questo guardate che meraviglia qua abbiamo sempre lana vergine merino un po più lana vergine merino e baby alpaca e microfibra un pochino più rispetto al soave e anche qua troviamo un filato morbidissimo e poi abbiamo questo merino aran meraviglioso questi sono i colori classici questi sono diciamo gli evergreen che appunto soddisfano qualsiasi esigenza qui abbiamo sempre lana vergine merino misto a microfibra c'è proprio un 50 e 50 saranno begomitoli da 250 grammi e per 500 metri quindi begomitoloni da lavorare col tre e mezzo quattro e mezzo questo è il meraviglioso zen è un composto di lana vergine merino microfibra e in più troviamo una nuovissima fibra angelina molto sottile particolare è sicuramente una fibra molto luminosa e risulta anche molto morbida al tatto e miscelata con altre fibre ovviamente donerà un effetto ancora più scintillante queste bellissime sfumature invece appartengono a van gogh un filato molto versatile molto morbido facilissimo da lavorare un po sottile ma dalle bellissime sfumature anche qua abbiamo un 60 per cento e lana vergine merino e microfibra i gomitoli saranno da 100 grammi da lavorare con il ferri 3 4 questo invece super lux è un filato impregiatissima lana vergine merino all'interno un sottilissimo nastro di lame ecco perché super lux ovviamente anche questo filato è molto morbido ed è anche ovviamente lavabile in lavatrice quest'altro bellissimo e sfumatissimo filato invece è liverpool un bellissimo filato da lavorare con i ferri 5 6 questi qua un po grossettini che piacciono tanto a noi questi sono i colori meravigliosi e in mezzo alla microfibra lana vergine merino troviamo anche la viscosa una vecchia conoscenza emozione qua abbiamo un cento per cento in lana vergine merino vi è piaciuto tantissimo questo filato e queste sono le sfumature ma nasce quest'anno una nuova emozione che si chiama angel guardate che meraviglie colori sono fantastici non so veramente che dire qui angel perché appunto abbiamo all'interno oltre al cento per cento lana vergine merino anche la piccola componente di angelina che come vi spiegavo prima è questa fibra che permette di dare ancora più lucentezza ai nostri filati sia emozione che emozione angel saranno gomitoli da 150 grammi per 540 metri questo invece eco natura un cento per cento di pura lana organica biologica e certificata per quanto riguarda tutti i processi produttivi inclusa la tintura completamente naturale infatti è presentato con i soli colori melange non tinti e sarà formato in bellissime matassine un'altra vecchia conoscenza lui è champagne in queste sono le meravigliose sfumature qui abbiamo un misto di microfibra e mohair si lavora benissimo lo lavoriamo con il 4 e mezzo 5 e mezzo un'altra vecchia conoscenza è caramellina le piccole cake da 50 grammi che avete già visto anche in fiera l'anno scorso tantissimo mi sono tanto piaciute questi sono i colori nuovi i colori insomma per questa nuovissima collezione sempre lana vergine merino e microfibra questo filato morbidissimo invece è biologico un nuovo rivoluzionario filato in 100% pura lana vergine merino rivoluzionario perché per la prima volta un filato esente da trattamenti al cloro lavabile in lavatrice questo filato ha un particolare trattamento per cui è in grado praticamente di mantenersi morbido flessibile gonfio e ovviamente anche antinfeltrente quindi tranquillamente si può appunto lavare in lavatrice un procedimento ovviamente totalmente ecologico e questi sono tutti i colori disponibili una meravigliosa ciniglia è di valux un filato che secondo me mi piacerà tantissimo adatto ovviamente a realizzare qualsiasi cosa dai capi d'abbigliamenti accessori e queste sono le colorazioni per questo autunno inverno saranno gomitoli da 50 grammi per 60 metri da lavorare con il 4 e mezzo 5 e mezzo questo invece è carezza da lavorare con i ferri 67 quindi abbastanza grossettino un filato caldo molto leggero qua abbiamo proprio microfibre lana vergine merino e quindi bellissimo da lavorare questi sono i meravigliosi colori e meravigliose tonalità per quest'autunno inverno guardate che meravigliose sfumature e questa invece è la ciniglietta leggera e morbidissima e il suo nome è folletto e qui possiamo veramente sbizzarrirci i colori sono meravigliosi come state vedendo abbiamo proprio un 100 per cento di microfibra una fibra analergica da lavorare poi con un 4 e mezzo 5 e mezzo dopo il successo di lady e lady lame nasce mi lady mi lady è un filato composto principalmente da microfibra e lana vergine merino sempre questo tipo di filato soffiato quindi facilissimo e bellissimo da lavorare soprattutto noi con l'uncinetto e questi sono tutte i colori e le sfumature di quest'anno la figata è che abbiamo dei pompon stupendi non i propri classici pompon ma con delle sfumature come state vedendo molto carine e molto particolari questo invece è il particolarissimo trio un filato che appunto trio ha in sé tre tipi di filati non ci facciamo mancare nulla abbiamo il lurex abbiamo diciamola l'effetto pelliccetta e abbiamo il mohair vedete spero si riesca a capire il dettaglio è un filato che io non vedo l'ora di lavorare vi dico solo questo perché veramente veramente particolare questi saranno gomitoloni da 200 grammi per 440 metri da lavorare con il 4 o il 5 questo invece è xl un bel filato super chunky filato grossetto come piace a noi facile e veloce da lavorare anche per i principianti e questi sono i bellissimi colori stiamo parlando di un cento per cento di pura lana merino questa super pelliccetta invece gli essi perché da veramente l'effetto proprio pelliccia e so che qui vi piacerà tantissimo si lavorerà con i ferri 5 6 i gomitori saranno da 100 grammi che dire di più è meraviglioso e ovviamente morbidissimo come morbidissimo caldo e vi è piaciuto tantissimo ovviamente il coccola non poteva mancare questi sono i colori che avete già visto sia i colori diciamo tinta unita che queste stampe ma nasce quest'anno il coccola frozen veramente un minuto di silenzio perché si commenta da solo è meraviglioso ma quest'anno mondial vuole super coccolarvi e quindi nasce il coccola super saiyan nasce espresso che è proprio il coccola gigante da lavorare con i ferri 25 o ancora più semplicemente lavorarlo proprio con le mani ovviamente poi ci saranno tantissimi tutorial non vi preoccupate però ecco intanto vi potete potete gustarvi le sfumature meravigliose e i gomitori saranno da 200 grammi per 40 metri e ovviamente anche questo è un filato 100 per cento microfibra e concludiamo con esagerato questo filato molto particolare qua abbiamo sempre una buona dose di microfibra e un 20 per cento di lana vergine merino esagerato anche perché saranno gomitoloni da 500 grammi per 500 metri queste sono le sfumature e ovviamente qua c'è il gioco di colori c'è un gioco di sfumature sono gomitoli giganti a questo effetto bucle molto particolare quindi un altro filato veramente da provare molto particolare questo piccolo e brevissimo video anteprima di quello che sarà la collezione autunno inverno 2019 2020 by mondial termina qui io spero che vi sia piaciuto anche se è stata una carrellata breve ma intensa ovviamente seguirà un video recensione più dettagliato con anche proprio i gomitoli e ovviamente cosa ancora più importante seguiranno poi tutti i tutorial di questa meravigliosa collezione se avete visto però un filato che vi ha incuriosito segnalatemelo qui sotto nei commenti così anche se volete maggiori informazioni su un particolare filato io come al solito vi lascio all'hand card sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video ciao ciao